Sarebbe stata investita mentre si recava sul posto di lavoro. Una dipendente di poste italiane questa mattina intorno alle 8.30 è finita nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino trasportata da un'ambulanza del 118 dopo il sinistro che si è verificato nel parcheggio delle coste in via Cornacchiola. La donna infatti stava prendendo servizio quando un suo collega inavvertitamente l'avrebbe urtata. Lo stesso ha immediatamente prestato soccorso fino all'arrivo dei sanitari che hanno applicato un collare, hanno soccorso la donna e l'hanno trasportata in ospedale per gli accertamenti e le consulenze sanitarie del caso sul posto intervenuta la polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che ha rintracciato prima la donna e poi ovviamente l'investitore per i rilevi diritto e per accertare eventuali responsabilità.